E' morto Massimo Carlesi, protagonista delle vicende sociali, ecclesiali e politiche di Prato degli ultimi 30 anni. Tanti messaggi di cordoglio in città, il vescovo Carlesi uomo dalle grandi doti umani, spirituali e civili. Nuovi treni pop sulla linea Pistoia-Prato-Firenze e stamani il viaggio inaugurale. In sella uno scooter rubato tenta di nascondersi, il covo in due immobili occupati in via Valentini. La guardia di finanza sequestra 12 pc collegati a piattaforme di gioco clandestine e in un internet point abusivo. Buonasera dalla nostra redazione, bentrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. Un altro lutto ha colpito la nostra città. E' scomparso stamani Massimo Carlesi, ex assessore comunale, figura di primo piano della vita sociale, ecclesiale e politica di Prato. In questo momento storia abbiamo bisogno di sognare il futuro di Prato perché dobbiamo dare questa voglia, questa fiducia, questa speranza ai nostri giovani per non li fa scappare dalla città, a chi ha lavorato tanto perché ovviamente ha bisogno ancora di credere in questa Prato e a quanti anziani che sono presenti e vogliono vedere una Prato ancora viva. Prato piange la scomparsa dell'ex assessore comunale Massimo Carlesi, deceduto questa mattina all'età di 67 anni dopo aver combattuto per più di due anni e mezzo contro un male incurabile. In molti lo ricordano come l'inventore delle lamme, il sistema di trasporti che rivoluzionò la mobilità urbana subito dopo il 2000 a Prato, ma Massimo Carlesi è stato un protagonista delle vicende sociali, ecclesiali e politiche della nostra città per un trentennio. Formatosi nella parrocchia di Grignano, bancario di professione, si impegnò nella misericordia, fondando alla fine degli anni Ottanta la sezione del suo quartiere. Vicepresidente del Consiglio pastorale diocesano, nel 1992 accoglie in diocesi Monsignor Gastone Simoni, divenendone uno dei principali collaboratori. Negli anni successivi l'impegno in politica, tra il 1995 e il 1999, è infaticabile presidente della circoscrizione Prato Sud, eletto tra i cristiano sociali. Al termine del mandato entra in Consiglio Comunale, nelle fila dei DS e di lì a poco viene nominato dal sindaco Mattei, assessore alla mobilità. Anni di impegno fattivo e innovativo, suo è il progetto del primo sottopasso, quello di Pratilia e poi quello rivoluzionario delle lamme. Non a caso il nuovo sistema della mobilità, un vero e proprio successo tra i pratesi, sarà copiato anche da Lucca, Pisa e Livorno. Proprio le polemiche intorno alla lamma rossa lo porteranno nel 2005 alle dimissioni. Nel 2009 torna in politica, decide di sfidare alle primarie del PD. Il candidato a sindaco Paolo Abati le vince a sorpresa, provocando un vero e proprio terremoto. La forte candidatura avversaria di Roberto Cenni, ma soprattutto le divisioni interne al centro-sinistra, gli faranno perdere le elezioni al ballottaggio per 1.500 voti. Si impegna di nuovo in Consiglio Comunale, dove poi verrà rieletto nella successiva legislatura sempre nel PD e ancora nell'attuale nel gruppo Demos. Dopo un anno si dimette, ritenendo concluso un ciclo politico e personale. Il nuovo vescovo Giovanni Nerbini lo nomina nel luglio 2020, direttore della Caritas diocesana. Di lì a poco la scoperta di un tumore ai polmoni lo porterà a non intraprendere l'incarico. Gli ultimi sono stati gli anni della malattia, vissuta con coraggio e determinazione, sempre con la sua fede cristiana incrollabile, fino alla scomparsa di oggi. La salma di Massimo Carlesi, esposta da questo pomeriggio alle cappelle del commiato della misericordia in via convenevole, da domattina sarà trasportata in palazzo comunale. Da giovedì, invece, sarà esposta nella chiesa di Grignano, dove alle 15 verrà celebrato il funerale. E sono tanti i messaggi di cordoglio in città per la scomparsa di Massimo Carlesi. Li vediamo nel servizio di Marco Manzo. Chi ha condiviso l'impegno politico, chi lo ha semplicemente conosciuto, ma anche chi, pur essendo dalla parte opposta politicamente parlando, ne riconosce l'onestà, i valori e l'impegno per la collettività. Arrivano da tutte le parti le reazioni di cordoglio per la scomparsa di Massimo Carlesi. Massimo è stato uomo delle istituzioni, sempre impegnato per il bene comune, sia nella sua attività amministrativa che nel suo lungo impegno politico e civile. Aveva un sorriso e una parola per tutti. La sua passione per la comunità è sempre stata forte, ha detto il sindaco Matteo Biffoni. Il segretario provinciale del PD, Marco Biagioni, ha associato il suo ricordo a un'esperienza di vita prima che politica. Entra nel PD durante la tua campagna elettorale e fu lì che scoprì che la LAM che mi portava a scuola tutti i giorni era stata una tua invenzione. Fu la conferma che la politica può cambiare meglio la quotidianità delle persone. Sei stato uno dei grandi della recente politica pratese, uno di quelli che lasciano qualcosa all'intera comunità, uno di quelli da cui c'è solo da prendere esempio, ha detto Biagioni, a nome di tutto il PD. E' un grande dolore, una grave perdita per la città. Ci siamo scontrati tante volte, ma è sempre stato un politico, un uomo di grande valore. Onesse e sincere, ha scritto nel suo ricordo il consigliere comunale Daniele Spada. Ricordo Massimo come un uomo impegnato sempre per il bene comune di Prato, sia in politica sia nel mondo dell'associazionismo cattolico. Massimo ha saputo cambiare la città con pragmatismo e consapevolezza, ha detto la deputata pratese di Forza Italia, Erika Mazzetti. Grande dolore per la scomparsa di Massimo Carlesi, uomo forte e coraggioso che ha dato tanto alla nostra città, ha espresso il sottosegretario agli esteri, Giorgio Silli. Un uomo onesto, per bene, da sempre impegnato anche attraverso l'associazionismo per il prossimo, per i più deboli. La scomparsa di Massimo segna una grande perdita per tutte le nostre comunità, ha aggiunto il presidente della provincia, Simone Calamai. Promotore convinto della nascita di una sezione della misericordia grignano, di quella confraternita istituita grazie al suo apporto, Carlesi fu il primo presidente. Nello stesso periodo ha fatto parte del Consiglio Generale dell'Arci Confraternita. Massimo è stato un punto di riferimento all'interno del mondo cattolico pratese, ha ricordato il proposto Gianluca Mannelli, e gli siamo grati per il grande impegno profuso all'interno della nostra istituzione. È stata una persona generosa e altruista che si è sempre spesa per il bene della comunità. Al Cordoglio si è associata anche l'intera diocesi, ricordando in Carlesi un instancabile figlio delle nostre parrocchie e del nostro associazionismo donato alla comunità tutta. Ho avuto modo di conoscere e apprezzare le grandi doti umane, spirituali, civili di Massimo all'indomani del mio arrivo in diocesi, ha ricordato il vescovo Giovanni Nerbini. Per questo lo avevo voluto direttore della Caritas di Ogesana. Il Signore, come lui stesso diceva, aveva però un disegno diverso e la scoperta improvvisa della malattia lo portò a rinunciare subito all'incarico. Lo affidiamo al Signore perché lui, che tanto si è impegnato per il bene della città terrena, lo accolga nella città del cielo. Massimo Carlesi ha lasciato un segno importante nella città impegnandosi sempre al servizio della comunità. Così l'ex sindaco Fabrizio Mattei ricorda la figura di Carlesi che proprio lui volle in giunta. Sarebbe stato un grande sindaco di Prato, ha aggiunto Mattei, ricordando le dinamiche che determinarono la sconfitta al ballottaggio del 2009 contro Cenni, a cominciare dalle divisioni interne al PD. Eravamo legati da un punto di vista amministrativo e nella giunta è stato un punto di riferimento molto importante, un impegno continuo e quell'impegno che incide nelle cose della città. Molte cose di Prato sono migliorate grazie a lui. È il padre delle Lamme, il mentore di questo sistema di mobilità che negli anni si è rivelato vincente. Eppure in quegli anni lì ci furono anche diverse critiche. Forse non tutti colsero all'inizio l'importanza di questa innovazione. Sì, certamente. Io ricordo proprio il giorno in cui iniziò l'esperienza delle Lamme. Lui la mattina alle 6 insieme ai dirigenti della Cappé salì sul mezzo per vedere se le cose funzionavano. era abbastanza teso, però ho determinato, come era lui, a portare avanti un'idea che poi è risultata effettivamente vincente. E quando arrivai io più tardi, verso l'8 e mezzo alle 9, mi abbracciò e dicevo stanno funzionando, ci sono tante persone che hanno scelto questo mezzo. E si è rallentato perché c'erano state molte polemiche. Come tutte le cose nuove, ci sono tifosi favorevoli e tifosi contrari. Poi alla fine sono diventati tutti favorevoli perché la cosa ha funzionato, non solo a Prato ma anche in Toscana. Ha rappresentato una di quelle figure che effettivamente hanno lasciato qualcosa di concreto alla città. Era una persona che si impegnava disponibile con tutti, sempre, sia quando era presidente di quartiere, sia quando era anche nelle organizzazioni cattoliche di volontariato. Ecco, in lui veramente non c'è mai stato, anche quando era in giunta, anche quando era candidato a sindaco, un punto, diciamo, di lontananza dalle persone. Lui vedeva effettivamente una carica pubblica come deve essere, cioè un impegno al servizio della comunità. E per le elezioni invece perse, proprio per pochissimi voti, li ricordo benissimo perché io ho detti una mano al suo comitato elettorale, proprio perché secondo me sarebbe stata una bella cosa per la città averlo come sindaco, senza nulla togliere poi a Cenni che è stato sua volta sindaco. Lì probabilmente un po' di divisioni interne, poi anche il sistema di voto del ballottaggio che effettivamente consente di mettere tutti insieme quelli che vogliono ostacolare, in questo caso volevano ostacolare una vittoria del centro-sinistra. Mi è dispiaciuto perché lui sarebbe stato un grande sindaco di Prato. E voltiamo pagina, sono stati consegnati stamani alla regione i primi quattro treni pop di Trenitalia che circoleranno sulla linea tra Pistoia, Prato, Firenze e Monte Varchi. Stamani il viaggio inaugurale da Santa Maria Novella a Prato Centrale. C'erano anche le nostre telecamere per mostrare i convogli su cui viaggeranno tanti pendolari i pratesi. Sono entrati in servizio oggi con il viaggio inaugurale da Firenze-Santa Maria Novella a Prato i primi quattro treni pop consegnati da Trenitalia alla regione. Progettati e costruiti da Alstom, i nuovi treni pop sono formati da quattro carrozze monopiano che consentono di far viaggiare ciascuno 500 persone, di cui oltre 300 nei posti a sedere e 12 posti per le biciclette provvisti di ricariche per le bici elettriche. I quattro convogli, dotati di 32 telecamere di videosorveglianza, assicurano una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai treni precedenti e viaggeranno sulla linea tra Pistoia, Prato, Firenze e Monte Varchi. A questi quattro si aggiungeranno nel corso del 2023 altri 15 nuovi treni che completeranno la flotta prevista di 19 pop in totale. Arriveremo ai 19 previsti entro il 2023, quindi ci sarà un bel cambio. Insieme ai treni rock che abbiamo già consegnato e ai treni blues che entreranno in circolazione continuiamo ad investire sulla qualità del servizio abbassando notevolmente quella che è l'età media del parco rotabili nella Toscana. Noi arriveremo nei prossimi tre anni a sette anni di vita di un rotabile rispetto ai 16-20 che noi avevamo qualche anno fa. Il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Gianni, ha sottolineato gli standard di qualità e comfort dei nuovi treni e ha rimarcato come tanti servizi in più potranno essere messi in campo quando grazie al tunnel TAV a Santa Maria Novella si libereranno due binari per i treni regionali e pendolari. Noi toglieremo da quel corridoio di due binari in cui c'è treni merci, treni pendolari, treni regionali, intercity, alta velocità. Ecco, toglieremo l'alta velocità che è quella che vincola di più perché quando passa un treno a alta velocità occorrono chilometri di binario libero sia davanti sia dietro. È evidente che a quel punto tutto il nodo ferroviario che qualche urbanista chiamava una volta l'accio ferroviario, tanto è invadente nel tessuto urbanistico di Firenze, sarà tutta a disposizione dei treni regionali, pendolari, quindi sarà tutta pop e con quello tanti servizi in più che possono portare la popolazione a essere indotta a servirsi di un trasporto pubblico quale quello ferroviario. E dalla mobilità su ferro passiamo a quella su asfalto. Sono iniziati oggi lavori di asfaltatura in via Paglie, piazza Medaglie d'Oro, interventi di sistemazione del manto stradale che hanno avuto pesanti ripercussioni sulla mobilità cittadina, con lunghe code che si sono formate in tutta la zona per la presenza dei cantieri. Stamani file vistose si sono registrate su via Moggi e via Filicaia creando non pochi problemi agli automobilisti. Come riportato sulla cartellonistica presente in strada, le operazioni andranno avanti H24 fino al termine dei lavori. Dal Comune rassicurano che l'intervento durerà solo un paio di giorni e che in ogni caso si è reso necessario visto lo stato dell'asfalto. E adesso una notizia di cronaca. In sella di uno scooter rubato ha tentato di nascondersi nel suo covo, costituito da due immobili occupati in via Valentini. La polizia municipale ha identificato il fuggitivo assieme ad altre tre persone che saranno denunciate per occupazione abusiva di edificio. La corte interna del complesso, a ridosso di una vecchia fabbrica, è divenuta una discarica. Alla guida di uno scooter rubato non si è fermato all'alt della pattuglia di motociclisti della polizia municipale e ha provato a scappare abbandonando il veicolo per poi rifugiarsi in un immobile di via Valentini occupato abusivamente assieme ad altre tre persone, anch'esse di nazionalità marocchina. Il protagonista della vicenda è stato bloccato dalla polizia municipale e portato al comando di piazza Macelli assieme agli altri tre conviventi. L'uomo, una volta identificato grazie anche alle immagini registrate dalle bodycam in uso agli agenti, sarà denunciato per ricettazione. Il controllo sullo scooter è scattato dopo che il sistema Targa System, in uso alle pattuglie del reparto moto, ha evidenziato che il veicolo era sprovvisto di copertura assicurativa. Le immediate verifiche con la centrale operativa hanno consentito di appurare che era inoltre provento di furto. Ne è nato un inseguimento nella zona tra via Marx, via Roma e via Zarini, fino a via Valentini, dove il fuggitivo ha lasciato lo scooter tentando vanamente di far perdere le proprie tracce a piedi. Adesso, assieme agli altri tre soggetti in via d'identificazione, dovrà rispondere anche di occupazione abusiva di immobili privati. Si tratta di due palazzine, in precarie condizioni e disabitate da tempo, in via Valentini, all'altezza di via Assisi, di fronte ad un cantiere edile e a ridosso di una vecchia fabbrica. Un gruppo di fabbricati, la cui corte interna è divenuta una vera e propria discarica a cielo aperto, con cumuli di rifiuti di ogni genere accumulati nel corso del tempo. Agli immobili, già oggetto in precedenza di occupazioni abusive, erano stati murati in passato alcuni accessi, ma oggi pomeriggio, al momento del blitz della Polizia Municipale, si è potuto constatare che alcune porte e finestre erano state divelte. Sono stati inoltre praticati dei fori nella muratura esterna per accedere ai locali e con ogni probabilità sono stati anche compiuti allacciamenti abusivi a luce ed acqua. E proseguiamo con la cronaca. Era un locale formalmente censito come associazione culturale, ma in realtà riconvertito a bisca di gioco online. I monitoraggi delle frequentazioni dell'attività situata ai margini del macrolotto hanno suscitato l'attenzione della Guardia di Finanza di Prato. Durante i controlli, i militari hanno trovato 11 PC adibiti a postazioni utente e un server utilizzato per permettere ai clienti l'accesso abusivo a siti di scommesse e gioco d'azzardo online, quali Roulette, Blackjack e Baccarat, non monitorati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I computer sono stati sequestrati insieme a somme di denaro in contanti rinvenute in prossimità delle postazioni. Secondo gli inquirenti si tratta di importi di ricarica dei vari profili utente registrati sulla piattaforma di gestione della rete locale di gioco. E passiamo adesso alla politica. Con il segretario provinciale del PD Biagioni, sereno, variabile, con uno Stefano Bonaccini nuvoloso dopo la sconfitta alle primarie, tempo soleggiato nei rapporti. Ecco il meteo politico nelle telefonate del sindaco Matteo Biffoni, ospite questa mattina della nostra rassegna stampa prima di tutto. Ha sentito al telefono il segretario del PD Marco Biagioni in questi giorni? Che tempo c'è fra di voi? No, no, ma il nostro è sempre stato un tempo, tra l'altro, a di là delle ricostruzioni. Noi abbiamo con Marco un rapporto, l'abbiamo eletto tutti insieme, con Marco abbiamo avuto questioni su cui abbiamo avuto sensibilità diverse e molte cose su cui andiamo d'accordo. Qualche volta abbiamo discusso e la stragrande maggioranza delle volte andiamo d'accordo. Dio voglia, cioè nel senso Dio voglia perché effettivamente dentro un partito non è una casella. No, no, ma non volevo una risposta così seria, ci mancherebbe altro. Mi chiedevo se il tempo era stabile. No, era stabilissimo, poi si rannuvola, poi torni sereno. Sereno, variabile. Eh, la voglia. Ha sentito al telefono il presidente Bonaccini? Sì, 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 ci siamo sentiti, ho sentito Stefano, anche semplicemente per sapere come sta umanamente dopo quella che comunque va da una sconfitta. Un po' di nebbia da lui perché ovviamente... Oh sì, allegro non è, però nel senso è Emiliano. E come tutti gli emiliani hanno una solidità che a me fa veramente invidia e impressione, devo dire la verità. E ci spostiamo adesso a Montemurlo dove questa mattina si è svolto in municipio l'incontro tra la madre di Luana Dorazio, Ebba Marrazzo, e il sindaco Simone Calamai per l'ufficializzazione della consegna dei fondi raccolti dal Comitato Montemurlo Solidale a favore del figlio della giovane madre rimasta vittima di un incidente sul lavoro il 3 maggio 2021 in una ritorcitura di oste. La somma raccolta è già stata consegnata alla famiglia Dorazio tramite bonifico bancario. La morte di Luana aveva creato grande commozione in tutta la comunità montemurlese, tanto che il sindaco Calamai tramite il Comitato Montemurlo Solidale, subito dopo il tragico incidente, aveva promosso una raccolta fondi da destinare alle necessità del bambino, rimasto orfano a soli cinque anni. Le donazioni sono arrivate da tutta Italia e sono di singoli cittadini, associazioni ed enti pubblici. E torniamo a Prato, consiglio comunale straordinario per commemorare gli scioperi del 1944. È quello che si è tenuto al Museo del Tessuto, il servizio di Lucrezia Sandri. I comuni di Prato e Montemurlo insieme in una seduta congiunta solenne e straordinaria dei loro consigli comunali al Museo del Tessuto nell'anniversario degli scioperi del 1944 in seguita ai quali molti cittadini pratesi furono deportati a Ebense per avervi aderito, a Ebense dove aveva sede uno dei più crudeli campi di sterminio nazisti. La giornata è iniziata con la deposizione di una corona dall'oro in onore dei cittadini pratesi deportati. Questi gesti che sono simbolici però sono anche rappresentativi della necessità di continuare sempre a tenere molto alta l'attenzione verso tutte quelle vicende della storia che ci fanno ricordare, ci fanno riflettere sul valore della vita, sul valore del sacrificio e dell'impegno che si ha, impegno civico e impegno sociale per la democrazia. Montemurle Prato negli ultimi anni si sono sempre uniti per ricordare, soprattutto per il giorno della memoria, istituendo questo consiglio comunale congiunto e straordinario. Quest'anno abbiamo voluto rinnovare questa nostra volontà di unirci in questa seduta solenne, in occasione in particolare di una deportazione tutta pratese, la nostra deportazione politica. È un modo anche per ricostruire un passaggio storico fondamentale della nostra comunità che viene dalla tragedia della deportazione, della deportazione politica di tanti nostri concittadini, ma quello fu anche frutto di un gemellaggio fra Prato e Ebense, la cittadina austriaca dove sono morti i nostri deportati e da dove pochi fecero ritorno che è un messaggio di pace, il primo gemellaggio di pace fra due comunità che si odiavano e poi insieme hanno fatto un percorso di ricostruzione di rapporti. E ci occupiamo adesso di cultura. Ha presentato il nuovo numero della rivista Prato Storie e Arte, dialogo che alimenta il futuro. Vediamo. Mantenere vivo il dialogo tra presente e memoria per alimentare il futuro è la missione di Prato Storie e Arte, così come lo hanno riaffermato ieri sera con determinazione la presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Diana Toccafondi e il direttore della rivista Giampiero Nigro durante la presentazione dell'ultimo numero della pubblicazione. Protagonista della serata con i tanti e diversi personaggi della rivista, l'affascinante racconto narrato dal video di Elena Mannocci dedicato a Spindles, l'opera donata alla città dalla Fondazione come riconoscimento per la sua capacità di rinnovarsi, di resistere alle difficoltà, di rigenerarsi dopo le crisi ma anche di essere coese e solidale. Una motivazione illustrata nel video da Franco Bini che nel suo ruolo di presidente della Fondazione si è impegnato per la realizzazione dell'intervento artistico. L'opera di Cecchini è un florilegio, un mazzo di fiori, così come sono un mazzo di fiori, queste figure così importanti, così del nostro passato che sono raccontate dentro questo numero. E credo che sia anche un modo di dire che la città ha bisogno di mantenersi sempre in costante contatto con il suo presente e con il suo passato, dentro questa circolazione virtuosa e che alimenta anche il futuro che è appunto fatta di presente e memoria. Da Giampiero Nigro è arrivato un appello a riconoscere il valore che ha per la comunità pratese la rivista, nata negli anni Sessanta, proprio per mantenere saldo e legame tra la memoria storica e la veloce evoluzione della città. Alla serata hanno preso parte anche il sindaco Biffoni, gli assessori Mangani e Bosi e la consigliera regionale Bugetti. Presente Gianni Rossi, autore del primo articolo della rivista dedicato a Donatello e la singolare vicenda della sua casa, comprata a Figline a due passi dalle cave di Serpentino, che proprio il direttore di TV Prato ha portato alla luce nei mesi scorsi con la collaborazione di Silvia Sinibaldi dell'archivio di Stato di Firenze. Ha intervenuto anche Carlo Palli, generoso protagonista della donazione di due opere di Michelangelo Pistoletto e di Yves Klein al museo di Palazzo Pretorio, a cui Prato Storia Arte dedica un articolo firmato da Rita Iacopino. E restiamo in tema di cultura. Giorgio Albertazzi, Giovanni Spadolini, Mario Luzzi, ma anche il collezionista pratese Carlo Palli, che infatti era presente all'inaugurazione. Sono solo alcuni dei personaggi ritratti dal fotografo Carlo Cantini, fiorentino classe 1936 e in mostra alla Montecatini Contemporary Art fino al 4 maggio, nell'esposizione Indimenticabili. Questa mostra nasce da un desiderio in particolar modo mio, perché è stato un lavoro che mi ha arricchito moltissimo, perché ho incontrato personaggi che fanno parte della nostra storia della Toscana, di Firenze. Io andavo nelle case di queste persone perché una rivista che era Toscana qui pubblicava il servizio del personaggio del mese. Quindi venivano visti uno alla volta, ma mai tutti insieme. Ecco, questa era la ragione di rimetterli dentro a una mostra tutti insieme. Non voglio dire una cosa esagerata come se fossero tutti i miei figli o tutti i miei parenti, ma però per me hanno avuto qualcosa di veramente di importante. Lui ha fotografato centinaia di personaggi in tutto il mondo. Qui sono solo una sessantina perché il museo non ne contiene di più, quindi i curatori hanno fatto una scelta e hanno messo. Lui ha fatto una donazione, ha ritratto Littenstein, Rauschenberg, Botero, Burri, il nostro Giuliano Gori, Amedeo Duca d'Aosta, Vittorio Gasman, Mario Luzzi, Erman Nitsch, Spadolini, Pistoletto e quanti altri. Ecco, tanto per dire. Ed è arrivato adesso il momento dell'agenda. Vediamo insieme quali sono gli appuntamenti in programma domani a Prato e dintorni. Domani alle 9.30 al Museo di Palazzo Pretorio, donne, diritti, autodeterminazione e tutela, convegno a cura del Centro Antiviolenza Lanara e della Cooperativa Licee. Alle 17 al Museo di Palazzo Pretorio, intrecci, storie di donne tra gli amici pittori di Cesare Guasti. In occasione della giornata nazionale della donna, il Museo di Palazzo Pretorio organizza visite guidate alla scoperta del ruolo di alcune donne del XIX secolo tramite le opere esposte. Biglietto gratuito per le donne. Alle ore 16 al Circolo Costa Azzurra, Io lotto sempre, parliamo di femminicidio. Incontro in collaborazione con l'Associazione Riccardo Becheroni e il Centro Antiviolenza Lanara. Alle ore 18 alla Camera del Lavoro, We Want Sexy Quality, proiezione del film sulla lotta delle operaie Ford inglesi nel 1968, che si concluderà con un dibattito e una pericena. Alle 19 al Museo archeologico di Artimino a Carmignano, Le Donne nel Mondo Etrusco, laboratorio per famiglie con ingresso omaggio per le donne residenti nel comune di Carmignano. Alle 21 alla Sala Teatro del Circolo Arci Rossi di Vaiano, Gaia, Un dialogo con mia mamma, spettacolo di Econ Stefano Luci, L'ingresso è libero. Alle 21 e 15 alla Sala Banti di Montemurlo, Svergognata, spettacolo teatrale interpretato da Antonella Questa in collaborazione con il Teatro Comunale di Fontanellato e l'Associazione Culturale Progetti e Teatro. Ed infine alle 21 e 15 al Centro Cinema Pecci, Guerrieri della Notte, proiezione del film di Walter Hill in versione originale con i sottotitoli in italiano. E dalla nostra redazione per il momento è tutto, vi lasciamo adesso al meteo a cura del Consorzio Lamma. A seguire intorno alle 9 e alle 21 e 20 la telecronaca della partita di calcio con Reggese Prato. L'informazione di TV Prato torna invece domani alle 13.45 con il Tg del Giorno. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata. Stop! Purtroppo questo non succede solo nei film Ma se vuoi stare tranquillo un modo c'è Affidati a veri professionisti Prato all'armi, una sicurezza da Oscar Era un colpo perfetto Avevo curato ogni dettaglio Eppure sono qui Mi definivano abile, scaltro, infallibile E anche se non ce l'ho fatta Ci riproverò Potete stare tranquilli voi Comprato poi Non è un caso che siano professionisti della sicurezza Tuscania offre soluzioni per aziende e privati Pulizie di uffici e condomini Palestre, impianti industriali Lavaggio pavimenti e moquette Trattamento cotto e pietre naturali Sono alcuni dei nostri servizi altamente specializzati Inoltre manutenzioni giardini e potature piante alto fusto Da ormai vent'anni L'esperienza, l'affidabilità e l'ampia disponibilità di macchinari all'avanguardia Sono i nostri punti di forza Per un servizio di pulizia completo e professionale Tuscania, la qualità del pulito Buonasera a tutti Ben trovati a questo appuntamento con il meteo a cura del Consorzo Lamma Alle mie spalle la circolazione a grande scala Prevista per la giornata di domani Mercoledì 7 marzo Apprezziamo molto bene l'area di bassa pressione sul nord Europa Un afflusso di aria molto fredda Sulla Scandinavia, sulle zone settentrionali dell'Europa Sulla nostra penisola e sul Mediterraneo Prevale invece un flusso di correnti occidentali Umide e relativamente miti Ma andiamo a vedere il tempo previsto per la giornata di domani Mattinata all'insegna della variabilità Alternanza di schiarite ed addensamenti Addensamenti questi ultimi più compatti sulle zone settentrionali Dove la probabilità di qualche breve precipitazione è maggiore Quota neve in Appennino 1500 metri Lo sguardo anche al pomeriggio dove non sono attese variazioni di rilievo Ancora deboli precipitazioni sulle zone settentrionali Con quota neve 1500 metri Segnaliamo anche venti sostenuti di Libeccio Con mari mossi o molto mossi In particolare a nord dell'Elba E temperature che continuano a salire Massime tra 13 e 17 gradi Concludiamo dando uno sguardo alla previsione per la successiva Giornata quella di giovedì Mattinata ancora all'insegna di variabilità Con le precipitazioni che interesseranno in particolare le zone di nord-ovest Quota neve che sale rapidamente Fino a interessare le scime appenniniche E poi a cessare addirittura trasformandosi in pioggia Nella seconda parte della giornata Stetta situazione Molte nubi ovunque Con qualche isolata e breve precipitazione di scarsissimo rilievo I venti sono ancora meridionali sostenuti Con mari mossi o molto mossi E temperature che potrebbero raggiungere anche i 17-18 gradi di massima È tutto, grazie per l'attenzione